E' andato in scena ieri sera al Teatro del Casinò di Sanremo che paradiso è Se non c'è il cabaret. Spettacolo di beneficenza in favore della Lilt Sezione Provinciale d'Imperia, con la serata a ingresso gratuito. Sul palco, sotto la direzione artistica del maestro Ermanno Croce e di Carmela Moffa, l'attore Francesco Conte. Con la complicità di Francesco Conte e molti altri artisti, gli ospiti presso il Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo hanno trascorso una gioiosissima serata a favore della Lilt. Divertimento puro insieme a giovani attori preparati, ballerine e anche una cantante che hanno ricevuto applausi a scena aperta. Francesco Conte è asceso recentemente alla ribalta delle cronache televisive per la partecipazione a fine ottobre alle reality dei talenti di Canale 5, Tussic e Vales. In quell'occasione Francesco, giovane e con un grande sogno, ha commosso anche la bella Belen Rodriguez, presentandosi sul palco e spiegando candidamente. Sono nato da due genitori sordi, sono cresciuto in mezzo alla strada, a 14 anni non sapevo manco parlare. Per 14 anni non ho visto nemmeno mia mamma, ma in tutti questi anni avevo solo un sogno, fare l'attore. Capelli ricci alla Massimo Troisi e sorriso luminoso, Francesco è capace di catturare tutti con le sue capacità. E lo fa con una grinta eccezionale, infatti il giovane di Napoli è non udente, ma parla e recita in modo molto emozionante. L'attore partenopeo con questo spettacolo ha voluto rendere omaggio a Sanremo e soprattutto alla sezione Liltia, si sente molto legato. Grazie agli appuntamenti voluti da anni dal maestro Croce e resi possibili dal suo eccellente staff, da anni in città prodano tanti ragazzi, tante giovani promesse artistiche che danno vita a spettacoli coinvolgenti a cui la Lilt collabora e cui si è sempre devoluto e ricavato. Anni fa Francesco era fra quei ragazzi, un talento che proprio a Sanremo ha così potuto esprimersi e offrire in pubblico la bellissima voce del suo sogno.